Ben trovati e ben trovate mercoledì 11 gennaio oggi alla conduzione ci sono io Antonella Cortese sono insieme ad Alessandro Masella ciao Antonella per cominciare questa giornata insieme e fare da ponte tra carcere e città con il nostro programma che sapete tutti si chiama Liberi Dentro e do Radio TV e Alessandro di che cosa ci parli oggi? Sì continuiamo oggi a parlare di istituti penali minorili come ha fatto Caterina per il resto della settimana oggi vorrei farvi notare qualche piccola nota positiva ovvero che anche persino nel nostro ordinamento c'è luce in fondo al tunnel o meglio c'è luce tra le sbarre la prima nota positiva che vi vorrei dire è innanzitutto il numero di ragazzi detenuti all'interno dei nostri IPM ovvero gli istituti penali minorili si attestano infatti a meno di 300 i cosiddetti giovani adulti ovvero coloro che vanno dai 18 ai 25 anni e sono addirittura meno di 200 i minorenni ovvero coloro minori di 18 anni questo dato è molto importante perché innanzitutto se andiamo a paragonarlo alla media europea vediamo che il numero è maggiore in molti altri stati e questo dato permette agli educatori alle guardie penitenziarie e alla direzione delle carceri di affrontare le problematiche dei detenuti in maniera più diretta in maniera più approfondita ascoltando le dinamiche che si vengono a creare senza il bisogno di reagire con il pugno duro e con l'aggressività talvolta infatti i ragazzi hanno semplicemente bisogno di essere ascoltati proprio perché dietro loro atteggiamenti di ostilità di aggressività e anche di violenza può celarsi un grave e necessario bisogno per tale motivo la tecnica adatta è l'ascolto e l'ascolto può avvenire solamente se ci sono le risorse il tempo per tale motivo il minor numero permette questo necessario ascolto e confronto mi sembra molto interessante questo approccio quindi parlavi di pugno duro di punizione fino a se stessa che in realtà in un'ottica proprio di risocializzazione e rieducazione diciamo la verità serve servono ben poco quali sono gli elementi che invece comportano diciamo lo sviluppo l'attuazione di un circolo virtuoso anziché di un circolo vizioso hai ragionissimo antonella perché il pugno duro non serve a nulla quello che serve innanzitutto lo dicevamo prima è proprio nel rapporto che si instaura tra le guardie gli educatori la direzione e i singoli ragazzi e questo passa per una miriade di fattori innanzitutto il linguaggio è corretto pensare che dobbiamo cambiare registro quando parliamo di carcere e già la parola carcere non è idonea la stessa parola cella sarebbe meglio sostituirla con camera di pernottamento ma non solo anche fattori strutturali da che mondo in mondo il carcere è un luogo brutto ma non si capisce perché facciamo di tutto per abbellire gli ospedali per abbellire le scuole e invece le carceri soprattutto quelle minorili sono nessuno ci pensa e sono sempre più brutte prendiamo l'esempio del carcere di quartuccio a cagliari che non solo è fatiscente e poco estetico ma anche si trova al di fuori della società della città che è impossibile da raggiungere con l'autobus ora sia la sua bruttezza e sia la sua lontananza dalla società non aiutano i ragazzi a reintegrarsi all'interno della città stessa e quindi educhiamo i nostri ragazzi alla sensibilità che significa educarli alla bellezza giustissimo alessandro bisogna portare la bellezza dappertutto e anche diciamo utilizzare la lingua in modo corretto questo soprattutto per quanto riguarda diciamo il rapporto interno ma quali sarebbero le diciamo iniziative più indicate anche con l'esterno sì un fattore decisivissimo e fondamentale è anche l'esterno ovvero le realtà imprenditoriali che investono nei ragazzi ovvero le realtà di associazionismo infatti parlando proprio di realtà imprenditoriali andiamo a palermo nell'ipm malaspina dove c'è un laboratorio che già il nome è tutta un'arte che si chiama cotti in fragranza questo laboratorio ha dato lavoro a questi ragazzi e gli ha insegnato a produrre i farinacei e quindi il pane la pizza i biscotti la punta di diamante di questo laboratorio e di questi ragazzi sono proprio un biscotto che si chiama parrapicca proprio perché rimane del piccante sulla punta della lingua essendo biscotti allo zenzero e inizialmente quando nessuno sperava in questi ragazzi e in realtà si riteneva che non avrebbero rispettato gli ordini i tempi e le consegne quando invece i ragazzi hanno rispettato in modo preciso e rigoroso ogni tempo e ogni consegna uno di loro ha proprio detto adesso verranno tutti ad accattarsi uparrapicca quindi buona fortuna a loro alessandro questo è bellissimo anche perché un utilizzo della lingua quanto mai creativo e pertinente cotti in fragranza è bellissimo ma mi fermo qui e ti ringrazio per averci raccontato questa storia e continuiamo con l'ospite della settimana che è alfonso pagiarino direttore dell'istituto penale minorile del pratello che ci parla oggi dell'osteria brigata del pratello ascoltiamolo insieme ritorniamo con il nostro ospite della settimana al nostro appuntamento fisso di metà puntata già da ieri siamo con il direttore dell'istituto penale per minorenni alfonso pagiarino l'istituto che si trova qui nel centro della nostra città di bologna nel quadrilatero tra via de marchi e via del pratello ed è intitolato questo istituto a pietro siciliani che altri non era che filosofo medico italiano e anche pedagogista soprattutto ricordato per aver fondato a metà del 1800 proprio qui nella nostra città di bologna il primo centro di studi pedagogici contribuendo così alla elevazione della pedagogia al rango della scienza tra le altre cose ho scoperto piccola postilla ecco per noi per voi che ci state ascoltando è che pietro siciliani fu un convinto assertore della valorizzazione di ogni persona e perciò anche della sua azione educativa per giungere alla conquista della libertà e del carattere morale da parte del soggetto da educare prevedendo l'intervento della famiglia e della società stessa e ovviamente nella società l'apporto non solo dell'istituto carcerario ma anche dei liberi cittadini della società civile dicevamo questo che è un istituto che si trova al centro di bologna nel quadrilatero tra via del pratello e via dei marchi proprio ieri col direttore pagiarino abbiamo detto che l'ipm è esclusivamente maschile si articola in due reparti speculari sviluppati in un unico piano uno devoluto all'accoglienza e l'altro all'orientamento le camere di pernottamento stando al report di associazione antigone proprio del 2021 intitolato ragazzi dentro sono che complessivamente ci sono sei stanze tutte intorno ai 4x4 metri quadrati con tutti i servizi igienici la doccia la televisione e naturalmente il mobilio in ragione dell'emergenza covid due anni fa sono state istituite cinque stanze anche di isolamento sanitario di cui due preesistenti e tre da aule da cui sono stati ricavati nuovi spazi per l'isolamento previsto dalle norme covid ma riprendiamo attacchiamo la nostra intervista con il direttore alfonso pagiarino a cui abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di più tra le attività formative dell'osteria brigata del pratello che nasce nel 2020 questo progetto poi arrestato chiaramente dalla pandemia ma che quest'anno ha ripreso con le cene mensili che organizza invitando la cittadinanza esterna a partecipare a queste cene evento in cui sono coinvolti i ragazzi stessi dell'istituto penale per minorenni che partecipano alla scuola alberghiero gestita dall'ente di formazione fomal ascoltiamolo devo ringraziare all'allora che adesso intenzione il dottor schiavone e il capo dipartimento dottor versari che adesso la roma amministrazione delle istituzioni siamo con loro siamo partiti a livello sperimentale proviamo prima a partire come esperimento eventualmente i ragazzi che escono perché c'è un continuo turnover gli diamo dei credi che possono spendere sia in altre scuola oppure dare a lavorare in qualche trattoria o qualche ristorante questa cosa invece è andata molto bene e siamo arrivati che i ragazzi frequentano fino al quinto anno chi ha voglia di farlo che è già una piccola scolizzazione e quattro cinque ragazze di queste hanno preso il diploma della scuola alberghiero dello scappi di Tassel San Pietro ecco la devo ringraziare mi danno l'occasione per ringraziare la preside i vari pesti che si sono succeduti dottor manganaro dottoressa palma che sono i dirigenti in questo momento della è la dirigente della scuola alberghiero di Tassel San Pietro e tutti gli insegnanti che vengono qui a vario titolo che sono tutti insegnanti del ministero della pubblica istruzione che vengono a lavorare qui in istituto e hanno tanta di quella pazienza sono bravissime ecco e già qui siamo partiti con la famosa famosissima io so che questa siete anche qui oggi per questo con la famosa brigata del fratello che cosa non è alto una piccola trattoria che si trova all'interno del Tassel ora perché l'abbiamo fatto questo per dare la possibilità a questi ragazzi un domani che escono da qui entrare nel mondo del lavoro chi lavora nella trattoria sono proprio i ragazzi diplomati all'avvenire tre stanno in cucina e tre seguono i talori ovviamente in cucina c'è uno chef votato e c'è un maestro che sta in sala io dico oggi c'è la giornalista di fronte a me che è stata presente qui a una di queste cene e certamente ha potuto gustare i cibi e come i ragazzi lavorano bene all'interno di questa trattoria sempre in divisa sempre in modo professionale questo servizio loro quando usciranno dall'istituto ovvio io non penso che diventeranno tutti degli chef me lo auguro però almeno possono trovare la possibilità di entrare nel mondo del lavoro di avere un lavoro ma anche certe volte anche lavare i piatti in un famoso ristorante c'è qualche cosa da lì si parte si parte sembrano alla base ovviamente questi stessi alcuni di questi stessi ragazzi tra quella anche l'università abbiamo tre quattro ragazzi che fanno storia filosofia scienze della formazione e sono questi qua e un altro ha fatto il dam ha avuto 25 anni per stare trasferito dalla casa circondariale ma sta proseguendo lo stesso percorso che facevano qua lo sta proseguendo all'esterno della casa circondariale come sempre nel mondo della ristorazione questa è una cosa che abbiamo fatto con la gente dell'isamerica è stata fatta solo per i garazzi ce lo chiede anche l'articolo 27 della professione della penetra evidente la penetrazione tutto quello che viene fatto poi ovviamente qui ci sono tante attività ce l'hanno lo sport ci sono attività fanno musica fanno corsi di educazione civica problematiche di mafia di bullismo ci sono tanti volontari che al lavoro nel mondo del volontariato è presente qua in istituto l'associazione si chiama UAPASSA sono dei ragazzi bravissimi che vengono il sabato della domenica qui a stare con le ragazze a fare delle piccole attività mi permetta di aggiungere che io ho partecipato alla serata della cena al brigato del pratello è una cena che si svolge una volta al mese e la particolarità è che è tutto all'interno del carcere quindi si crea una specie di ponte tra carcere città certo io ho sempre detto poi poi è vero è stato fatto ma da gennaio non sarà due volte al mese perché abbiamo più di 7 800 persone che hanno chiesto di venire non riusciamo se no a fare invitare tutte queste persone c'è un costo ovviamente i costi servono per comprare di nuovo un'altra volta come devo dire i beni per l'acquisto del materiale per far partire questa trattoria ai ragazzi devono dare un contributo anche c'è un contributo è un tirocinore e un tirocinio continuano un tirocinio nella ristorazione e prenderanno contributo da parte del suo mal e questo perché lo facciamo io ho sempre detto che il carcere l'istituto è che per almeno si trova al centro della città e la città se ne deve far carico e la città se ne fa carico ecco devo ringraziare tutta la città di Bologna ma anche gli amministratori locali qua anche il comune di Bologna quest'anno il comune di Bologna l'assessorato alla scuola mi ha donato insieme alla coppia mi hanno donato un sacco di materiale per la scuola materiale scolastico ecco quaderni pende anche la militare che l'amministratore della giustizia fa la sua parte però quando dico che la città se ne fa carico se ne fa carico ricordate che abbiamo anche il teatro il famoso teatro di Paolo Bede questo famoso regista che lavora da 24 anni qua nell'istituto e tutti gli anni fa presente uno spettacolo e anche lì viene del pubblico all'esterno che vengono a trovare questi ragazzi vengono a prendere uno spettacolo continuiamo oggi con la nostra inchiesta Reconstructing the Malin Massacre ne abbiamo parlato ieri siamo partiti da una domanda precisa in Europa il razzismo non è più un tabù questo questa domanda è presente nell'articolo di Francesca Spinelli e ieri abbiamo provato a ricostruire l'inchiesta che appunto si intitola Reconstructing the Malin Massacre coordinata dalla redazione di giornalismo investigativo Lighthouse Reports è uscita lo scorso 29 novembre che ha un po' ricostruito i fatti accaduti in estate il 24 giugno 2022 nell'enclave spagnola in territorio marocchino cioè Melilla quando 37 persone sono morte nella calca e 77 sono risultate disperse Francesca Spinelli ci fa riflettere sul linguaggio ecco Alessandro che si ritorna di nuovo a parlare di linguaggio linguaggio nelle diverse accezioni nelle diverse situazioni e su come si sta piegando ad un pensiero politico preoccupante a livello europeo il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlasca aveva dichiarato a più riprese che a Melilla la guardia civil si è dovuta difendere da un attacco violento versione smentita da un rapporto pubblicato già a luglio dall'association marocchaine The Druid Human. Dopo la crisi al confine tra Polonia e Bielorussia nel 2021 i discorsi di governi e istituzioni europee sui migranti si sono ulteriormente induriti attraverso la scelta di presentarli appunto come assalitori manipolati o meno da stati terzi. Dopo i trafficanti e le ONG ora i governi europei includono tra i nemici da combattere anche i profughi e non lo fanno solo a parole infatti nella proposta di regolamento sulla fantomatica strumentalizzazione della migrazione elaborata tra l'altro dopo la crisi con la Bielorussia la migrazione è stata associata per la prima volta in un testo legislativo al termine attacco. Questo messaggio però è molto preoccupante perché trasforma i migranti in una minaccia o addirittura degli usurpatori per l'Europa. Hai ragione Alessandro tra l'altro si è approvato il regolamento permetterebbe di derogare al diritto d'asilo in determinate circostanze e questo per riprendere proprio il titolo di un comunicato firmato da oltre 80 organizzazioni sarebbe il colpo di grazia per il sistema europeo comune di asilo. E poi mentre la parola attacco si fa strada nel lessico istituzionale Francesca Spinelli dice che c'è una parola che non si troverà mai nei discorsi e nei testi ufficiali delle politiche migratorie ed è la parola che collega un po' le bugie di Grande Marlaska ai centri di detenzione segreti in Bulgaria, Croazia e Ungheria al centro dell'ultima inchiesta coordinata sempre da Lighthouse Reports che tra l'altro in Italia è stata pubblicata su domani ed è la parola razzismo. Come osserva la rete Peacom che sta per Platform for Cooperation and Undocumented People l'impegno espresso dall'Unione Europea attraverso il suo piano di azione contro il razzismo lanciato nel 2020 si ferma dove cominciano le politiche migratorie d'asilo e infatti in un recente commento pubblicato su Open Democracy la ricercatrice Arian Fremantle parla di terrorismo razziale contemporaneo volto a dissuadere i migranti non solo dal muoversi fisicamente ma anche dal desiderare una vita migliore. Capisco Antonella e visto che di ricerche insomma ne sono state fatte tante ti va di spiegarci il contesto storico? Sì, lo faccio citando Fabian Giorgi che è un ricercatore che ci dice che l'attuale recrudescenza del razzismo in Europa può essere interpretata come una controreazione a una serie di sconfitte politiche subite dalla destra conservatrice. La prima è la diversificazione delle società europee sul piano etico e culturale rispetto agli anni 90, diversificazione che è andata di pari passo con l'affermarsi delle lotte antirazziste e la messa al bando quasi unanime del razzismo vecchio stile e più diretto degli anni 80. La seconda sconfitta è invece stata la scelta di alcuni attori neoliberali di promuovere una retorica nuova e meritocratica sulla diversità e il multiculturalismo, sottolineando i benefici economici e gli altri effetti positivi della migrazione. Per rimanere sempre in tema di minori vi facciamo rivedere un'intervista che abbiamo realizzato qualche tempo fa e infatti ci scusiamo se tecnicamente non è diciamo eccellente a Cosima Buccoliero che ci parla del suo libro che è stato scritto e realizzato appunto con Serena Uccello, giornalista del Sole 24 Ore. Il libro si chiama senza sbarre e ci racconta come ci si approccia alla realtà del minorile e ci parla dell'esperienza di Cosima Buccoliero nel carcere di Bollate e ascoltiamoli insieme perché è davvero molto interessante. Cosima Buccoliero si presenta con un libro, un libro scritto insieme a una giornalista, una scrittrice del Sole 24 Ore che si chiama Serena Uccello e il libro a cui sto facendo riferimento è Senza Sbarre, storie di un carcere aperto. Però prima di dare la parola a Cosima Buccoliero voglio dire due parole su di lei giustamente per contestualizzare un po' l'argomento. Si è laureata in diritto penitenziario nel 92 scalando rapidamente le gerarchie carcerarie con direttrice, vice direttrice e direttrice a Milano del carcere modello di Bollate che conosciamo tutti, poi direttrice di opera del minorile Beccaria e oggi reggente del circondariale Lorusso e Cotugno di Torino. Intanto buongiorno Cosima, grazie per aver accettato l'invito di Liberi Dentro e di Radio e TV. Buongiorno e buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora io partirei subito dal libro ovviamente perché ho visto, ho letto il primo capitolo che è così definito. Ultimo giorno a Bollate, il carcere modello comincia con queste parole. Lo leggo perché secondo me è significativo del libro stesso. Questa è la seconda casa di reclusione di Milano Bollate, io mi chiamo Cosima Buccoliero e di questo luogo sono stata la direttrice negli ultimi due anni, fino ad oggi o meglio fino a ieri. Ho appena consegnato al nuovo direttore tutti i registri, i documenti, i libretti con i risparmi dei detenuti, i conti e le carte di credito. Ho riepilogato i progetti appena conclusi e quelli in corso. Ho consegnato le chiavi delle cassaforti. Mi accorgo che in fondo è come lasciare una vecchia casa a un nuovo inquilino per raggiungerne un'altra. Da domani sarò alla casa di reclusione di Milano Opera e mi occuperò in particolare dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria. E dopo chissà. Allora, dopo queste parole la prima domanda è come mai nasce questo libro e da quale esigenza? Nasce intanto dall'esigenza di raccontare questa storia che per me è stata molto importante, che è una storia professionale, che mi ha visto tra i protagonisti, tra coloro che sono riusciti a realizzare un modello di carcere, quello appunto del carcere di Pollate, che è un modello all'inizio diciamo in via sperimentale e che poi però si è stato riconosciuto, nel panorama penitenziario italiano, come un modello di carcere possibile. Quindi la mia voglia è stata quella intanto di definire probabilmente più a me stessa che agli altri, ma anche di dare agli altri la possibilità di considerare un modello di carcere possibile, diverso probabilmente da quello a cui purtroppo a volte insomma anche le crona che ci raccontano, quindi insomma ho voluto consegnare anche alla comunità un'organizzazione alla quale poi non abbiamo partecipato soltanto noi operatori, ma hanno partecipato, ha partecipato anche la comunità esterna, hanno partecipato tante persone. Certo, questo è verissimo. Senta, un'altra cosa che mi ha colpito è il colore. Lei fa un riferimento al bianco, dice inizialmente ho trovato tutto bianco, neutro, io direi addirittura impersonale, ma come si vive in uno spazio forzatamente condiviso? Come possono vivere le persone ristrette? Come lo ha vissuto lei? Beh, questo è un grande problema, è stato un grande problema prima della pandemia, finiamoci successivamente alla pandemia. Certamente la mancanza di spazio è la prima condizione che non permette poi una detenzione dignitosa. Nel momento in cui le persone sono stipate in una camera, oppure sono stipate in una sezione e non c'è nessun'altra possibilità, insomma, di avere e di poter utilizzare degli spazi più ampi, capite che tutto questo è difficile poi chiedere alla persona detenuta un'adesione al trattamento, è difficile anche chiedere alla persona detenuta di avere fiducia nelle istituzioni e anche fiducia nelle persone, negli operatori che sono lì con lui e quindi la mancanza di spazio sicuramente è la prima condizione che dovrebbe essere affrontata e che dovrebbe essere risolta. Tra l'altro, insomma, l'Italia è stata condannata proprio dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per il trattamento in umano degradante e la base, insomma, una delle condizioni è stata proprio quella del mancato rispetto, dello spazio necessario, vitali. Io mi trovo qui, per esempio, a Torino, alla Casa Circondarei di Torino, in cui c'è una situazione di sovraffollamento che è veramente molto grave, perché ci sono diversi padiglioni, diverse sezioni e ciascuna di questi padiglioni ha circa 500 detenuti, con almeno quasi 100 persone in più rispetto alla capienza prevista, quindi è evidente che in una situazione di questo tipo non ci sono proprio i fondamentali, insomma, per poter veramente procedere nella materia, insomma, nel modo in cui è previsto dalla legge, anche perché c'è anche una grande situazione di promiscuità, no? Cioè le persone sono insieme e il gruppo che si forma è anche estremamente eterogeneo, quindi è difficile anche realizzare dei progetti che, come dice la legge, siano veramente individualizzati, ecco, per le persone detenute, ecco, è una cosa poi dopo che accatena, insomma, tocca tutti gli aspetti tendenziati. E anche oggi purtroppo la nostra puntata finisce qui, ringraziamo tutte le persone ristrette, non che ci hanno ascoltato e se volete scriverci fatelo, fatelo su redazioneliberidentro chiocciolagmail.com oppure in cartaceo potete scrivere a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me che sono Antonella Cortese, un saluto da Caterina, da Enea, da Diana, da Paolo e da Alessandro. Ciao, ci vediamo domani! Ciao, ci vediamo! Ciao, ci vediamo! Ciao, ci vediamo!